I carabinieri della stazione di None hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare rispettivamente in carcere per un 56enne e ai domiciliari per una 38enne perché ritenuti responsabili di furto e ricettazione. I militari dell'arma hanno accertato che la coppia dall'inizio dell'anno si è resa responsabile di tre furti in due chiese a Volvera e Orbassano e di ricettazione di un'auto rubata. I due che agivano all'interno delle chiese si avvicinavano alle donne che pregavano e approfittavano di un momento di distrazione per derubarle della borsa. Hanno anche rubato due biciclette parcheggiate all'interno del cortile della chiesa di Volvera. Agli arrestati è stata contestata la ricettazione di un'auto della rusata che era stata rubata in precedenza a Torino. La coppia è stata identificata grazie alle immagini di videosorveglianza installate vicino alla chiesa di Orbassano dove la coppia ha rubato una borsa contenente 600 euro a una donna. Il 56enne è stato condotto al carcere Lorusso Cotugno di Torino mentre la 38enne doveva permanere all'interno della propria abitazione.